Il 30 e il 31 maggio, presso il Centro Lingottofiere di Torino, il Comitato Eventi Idee, costituito da diverse associazioni di categoria come API di Imprenditorialità Donna, CDO Piemonte e API Torino, ha promosso con successo due interessanti iniziative, B2B, creare mercato e costruendo smart. Axitalia è un'azienda che si occupa di Information Technology, andando ad occupare tutti quelli che sono gli aspetti che contraddistinguono il mondo delle telecomunicazioni. Partiamo dalle basi, quindi dal cablaggio strutturato, fino alle piattaforme di comunicazione, convergenza fisso mobile, sicurezza e tutti gli aspetti che vi sono legati. In questo momento la sicurezza viene percepita come un'esigenza indispensabile per ogni azienda. In questo contesto andiamo ad inserirci con soluzioni sia di protezione dei dati sensibili del cliente, sia di andare a controllare il perimetro delle proprietà delle aziende. Quindi andando a confrontare quelli che sono i prodotti e le soluzioni di videosorveglianza con quella che è l'infrastruttura che il cliente ha già in essere. Siamo un'azienda giovane, esistiamo solamente da cinque anni, anche se ci avvaliamo della collaborazione di dipendenti e personale altamente qualificato e con anni di esperienza. È la prima occasione in cui abbiamo deciso di confrontarci con una vetrina verso quelle che sono le aziende, che poi sono il nostro core business. Semplicemente volevamo mettere una vetrina col nostro nome. Grazie a tutti!